Buongiorno Enzo, ma perché c'hai la maglietta? Per un po' c'è una chiesa a comprare, ma apriamo la chiesa. Chiesa? Che ti è brutto? Ma non ti tocco mai... Oh, ma che cazzo? Oh, ma rimortarsi! Ma che cazzo ti ridi? Ma te li senti male? Guarda che schifo che sei! Guarda qua, cazzo. Guarda qua. Senti, mi fai un saluto a Poste Italiane, come pubblicità. Poste Italiane! Poste Italiane! S.P.A. Batti a P.A. Alcuni gara. Cioè, ti dovresti che quattro cittadini? Beh, ho finito in segretta, gara. Io non fumo. Non fumo? Ancora non ti sai ricordare che lui non fumo? No, nemmeno io, Enzo. Ma non fumo nessuno. Vediamo qua, signore. Ma perché sei a corrido il giornale che sei a cagato sotto? Chiari da? No. Non è sicuro, però. Senti. Non sai come sta, papà. Ma perché puzzi nel merda così? Parla bene, c'è una ragazza minorenda, mi disfascio la testa. Mi ha orchietto molto reggiasi nei paoli. Scusa, parla bene. Cazzate così cattivo. Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Scusa. Io sono il capo della polizia. Cioè, che è che qua faccio ordine vero? Non è vero. Sono un poliziotto fallito, mancato. Lo sanno tutta la zona che sei matto, quindi manco se girano più. Ma matto è tua madre. Ma matto sei teo. E sarebbe indietro madre. Non lo so, pure te. Che lo pagano io. Che cazzo ti dico? Non dire, ma lo faccio! Ma la cazzo mi lo rende. Se no che fai. 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 Non dire, ma lo faccio. Chiamo la polizia. Ah. Non le poste italiane. No. Chiamo Tiziana Leone. E chi è? E' una vicenda forse in stato del criminale. Ah, non è una porno stato. E ti faccio carcerare. Non è una porno stato. No, non è una vicenda forse. Allora, comunque allora. C'hai tre problemi. Puzzi. Strilli. E hai rotto il caso. Che ha detto? Che sei pedofilo. Non dire, ma lo lasci. Occhiamo. Signori, lo saprete che è pedofilo. Nicola, l'angelo. E' un pedofilo, lo saprete. Questa è mia terrazza. E' matto. E' matto. E' matto di cuore. E' matto di cuore. E' matto di cuore. E' matto. E' matto di cuore. Ma lo chiamo. Ma lo chiamo. Ma lo chiamo. Che cazzo. Ma lo chiamo. Ma lo chiamo. Che cazzo è matto. Ma lo chiamo. Che pabli. Che pabli. Cazzo. 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 Senti. Che uno si metto a dire. 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 Ma hai fatto la cacca dentro la posta. No. No. Che uno si metto a dire. Quella è terracotta. Scemo. Ma perchè c'è. Aspetta. Ma perchè c'è il libro. I Grecchini. Vi gira un po'. Ha vinto il Palatinaicos. Forza Greca. Forza Greca. Ma che forza Greca. E' ritardo a Roma. Io non so da Roma. Ma non so da Roma. Ma qual'è la formazione del Palatinaico? Cazzo. Missianopoulos. Cassianopoulos. Cassianitis. Missianis. Dacatas. 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 Ieri. Ha segnato De Rossi ieri. De Rossi? Eh. Mi lo pensano a De Rossi. Ma Daniele Rossi. E' il mio figlio di Roma. Loco. Stati è pieno. La forma su. E' per noi. Da Caccia ha vinto. E dai che cazzo stai contento? No. A me fa ricominciare a Roma. Eh. Stai col libro di Greci. Questa è storia. E c'entra questa. Stati anni fa. Oh no. Quanti anni fa? 200. E che cazzo stiamo? Siamo romani. Tre severini. Ci piace tanto. La Mussolini. Siamo romani. Ci piace tanto. Siamo andando in Italia. Scusate. Buona mano? E tu? E' con la mano? E' con la mano. E' con la mano? E' con la mano? E' con la mano. ma sto sempre a cagata sotto sono schifo signor guarda ti dico solo una guarda ti dico solo una guarda ma fai